Ce l'avevi anche tu e come no, nell'astuccio ci stava scomodo, al compagno chiedevi a Tonito che ci famo con sto goniometro, tutti a scuola con il goniometro, tutti in classe con il goniometro la maestra ci ha detto compralo, però non ci ha mai detto usalo, frate pure tu c'hai il goniometro Lezione ora di educazione tecnica, la prof ancora rimane un po' coscettica e cita il proverbio che oggi si impara l'arte e quindi il goniometro mettetelo da parte, faccio ricreazione con un po' di stress l'ho chiesto anche al bidello e mi ha riempito d'offese, numero 1 me li coglioni e va a giocare a pezzi questo bidello mese a tanto è del viterbese, voglio vedervi studiare, sì prof, voglio vedervi imparare, sì prof e non chiamatemi prof, sì prof, mentre spiega geometria tutti con le cuffie la gomma pane serve a far le palline, di vere e finte caccole ne tiro a decine il compagno reagisce lo sfido a duello, quaderno come scudo e come spada e righello ce la vedi anche tu e come no, nell'astuzzo ci stava scomodo al compagno chiedevi a Tonito, chi ci famo con sto goniometro? tutti a scuola con il goniometro, tutti in bagno con il goniometro se disegni un pene istrionico, ogni palla avrà il suo diametro finalmente userò il goniometro, a scuola ero più assente delle rughe sulla d'urso la prof rompeva il cazzo come Mascia fa corso a scuola bene o male tutto aveva un senso, persino l'astinenza di Lucia Correnzo vuoi capire l'uso del goniometro? vai! la fila è lunga un chilometro? c'è chi? lo usa per tagliare la pizza? eeeh! gli arasta unto de mortazza? il goniometro a volte è un pericolo e se lo uso come un ninja è gesticolo e se lo tiro sotto la cinta e si conficca lì è meglio che tu abbia il terzo testicolo io sono cambiato da quando ho trovato nell'uovo pasquale un goniometro di manga nipponico e da allora un dubbio atroce massale questo goniometro ce l'hanno in posti potenti compatto massonico infatti non serve a un cazzo ma ce lo vendono a tutti c'è qualche intrallazzo ce l'hai anche tu e come no un prodotto assai simbolico qui nessuno può fare il fenomeno senza un simbolo massonico tutti quanti con il goniometro il ministro c'è il suo goniometro pure io per fare il comico ho dovuto comprare un goniometro frate vatta compra il goniometro